Dunque, grazie di essere qui, in questa uggiosa giornata padana che un po' ci opprime tutti nell'anima, però è sempre un piacere per me tornare a Torino dove ho insegnato tanti anni e anche in questo posto così nobile e bello dove tante iniziative, conferenze, incontri sono stati fatti. Lavoro, sappiamo bene una parola latina e significa fatica, corrisponde esattamente al greco moderno, cioè non esattamente, ma in maniera parallela al latino, al greco moderno dullia. Il lavoro è dullia, cioè schiavitù, servitù. Per i greci invece, antichi, la parola più usata è ergon, erga, al plurale, che pone l'accento non su un dato psicologico, cioè la fatica, la sofferenza, ma sull'opera che si crea mentre si lavora, sul fare. Allora, siccome noi parliamo di mito, io inizierei, non da un mito, ma da un mito come storia sacra, da una riflessione sul mito di creazione della Bibbia. All'inizio, Gavè, Dio, crea, non c'è niente, crea, crea non con le mani perché le mani non le ha, ma crea il mondo. Separa la terra dalle acque, fa nascere la luce dalla tenebra e al settimo giorno si riposa. Quindi è un Dio, se possiamo dire così, che lavora il mondo, che fa il mondo. I dei greci no, il mondo se lo trovano già fatto, perché il mondo nasce da caos, dalla materia, che poi si ordina, si organizza, poi vengono le prime generazioni divine e alla fine il mondo in cui prendono posto questi dei. Cosa fanno gli dei greci? Non creano, ma generano, generano, cioè fanno nascere le stirpi umane e poi le governano. C'è una differenza ovviamente fra il creare e il generare, non che costi fatica alle donne soprattutto e travaglio, ma è un altro tipo di approccio verso la realtà in cui gli uomini poi vivono. Ma il lavoro non nasce assieme a Dio. Il lavoro è una cosa da uomini. da umanità, uomini e donne. Gli dei non lavorano. Dio è distante dal mondo del lavoro e anzi, se noi andiamo a esamiare i miti delle origini, il lavoro nasce dopo. Nasce quando Dio scaccia ad Amedeva dal giardino dell'Eden e dice a Eva tu genererai con dolore, tu morrai e lavorerai, lavorerai, insomma ti è dato come pena il lavoro, cioè la vita quotidiana. Se noi andiamo a vedere la teogonia di Esiodo troviamo una nozione simile. All'inizio dice Esiodo c'era l'età dell'oro in cui gli uomini non lavoravano. La terra produceva da sola i suoi frutti e questi uomini godevano di una vita felice. Il lavoro viene dopo, come conseguenza quindi del distacco dell'essere umano da una situazione di beatitudine originaria. Immaginiamoci cosa potrebbe essere il mondo senza lavoro. In realtà ciò che dicono i miti delle origini è che il lavoro è un prodotto della civiltà, non della beatitudine primaria. E questo corrisponde a un dato antropologico evidente. Quando nello sviluppo delle comunità umane nasce il lavoro, quando c'è una differenziazione delle classi sociali con l'agricoltura, quindi nasce il lavoro e con il diventare sempre più complesso della società. Non dobbiamo poi sovrapporre il concetto moderno di lavoro al concetto antico. Anzi direi che ogni momento della storia elabora della civiltà, un concetto di lavoro che si va evolvendo nel tempo. Il lavoro è solo questo, delle mani o anche questo, della mente. Nello sviluppo della specie umana viene prima questo, l'uomo Faber che fa e quindi sviluppa la mente o viene prima questa che progetta e crea gli strumenti per la sopravvivenza? Forse l'una e forse l'altra. A mano a mano che la manualità si sviluppa, si sviluppano le capacità cerebrali per utilizzare gli strumenti e a mano a mano che le capacità del cervello si moltiplicano, si sviluppano, gli strumenti vengono progettati e perfezionati. Ma siccome il mito, e qui devo dire due parole sul mito greco in generale, siccome il mito nelle società arcaiche in fondo anche oggi offre dei racconti, ma offre anche dei modelli di comportamenti, offre come dire l'imprinting a cui una società poi finisce per adattarsi, finisce per confrontarsi, dovremmo quindi dire che il mito dei greci non parla, di lavoro, non sono dei lavoratori e non sono neanche dei legiferanti. C'è una grande differenza tra le religioni monoteiste e la religione greca, per rimanere a questo tema. Cioè i dei greci non danno comandamenti, non danno divieti. Se non, alcuni fondamentali, non compiere spergiuri, perché lo spergiuro è in nome di una divinità, è un'offesa fatta alla divinità. Non distruggere templi, eccetera, eccetera, se uccidi i genitori, arrivano le rinni. Ma non c'è un decalogo, non c'è un codice di comportamento a cui l'umanità deve attenersi, che si arrangi come può l'uomo. Noi, i dei, abbiamo la nostra vita sempre beata. Voi, uomini, vi lasciamo alla vostra umanità. Vi osserviamo, vi giudichiamo, ci divertiamo con voi come ci si diverte con dei burattini, ma vi lasciamo, senza delle leggi da seguire, non uccidere, chi l'ha detto? Uccidone come? Non dire falsa testimonianza. E Ulisse, allora, un bugiardo matricolato, non desiderare la donna d'altri, e allora pari dei tanti altri, onore il padre e la madre, e allora Oreste che ha ucciso la madre. Insomma, nel momento in cui gli dei greci non organizzano la vita degli uomini secondo delle regole, delle norme, e quindi lasciano l'umanità a cercarsele, noi possiamo dire che qui, qui in questo, vediamo la radice di tanti fenomeni che ancora restano della civiltà greca. Prima di tutto, la filosofia. Cos'è la filosofia se non cercare una verità? Se la verità fosse stata data da Dio all'inizio dei tempi, non sarebbe filosofia, sarebbe teologia. Sarebbe teologia. Sarebbe un'interpretazione della parola rivelata di Dio. Ma gli dei greci non rivelano niente agli uomini. Non rivelano comunque le leggi a cui devono attenersi e gli uomini se le devono cercare da sé. Però c'è una cosa che forse gli dei greci hanno e altre religioni monoteiste hanno molto di meno. E cioè sono dei civilizzatori. Almeno gli uomini attribuiscono a loro i fondamenti della civiltà e quindi anche i fondamenti del lavoro, fra le altre cose, perché il lavoro è una forma della civiltà umana. Non c'è attività umana, lavoro umano, che non abbia come inventore mitico o anche come protettore una divinità. è l'agricoltura. Chi insegna l'agricoltura alla civiltà umana? Demetra. E' Demetra che pianta la prima spiga e poi di lì nasce il grano. E poi Demetra offre ai suoi protetti, a secondo dei casi. C'è un eroe inventore dell'agricoltura in vari miti greci, Trittolemo ad Atene. Gira per il mondo con un carro alato e sparge i semi, insegna agli uomini a coltivare quindi il grano. E sfama perciò l'umanità. Tant'è che quando Demetra, offesa e addolorata perché sua figlia, come sappiamo, Core, è stata rapita da Ade, re dei morti, è portata nell'oltretomba, allora tutto si blocca. L'umanità rischia di morire di fame, non spunta più una spiga, non cresce più una mela, finché Core torna, viene restituita alla vita. Questo è un grande mito, non solo greco, c'è in tutta la Mesopotamia, il grande mito di cui parla Fraser nel Ramo d'Oro, il mito dell'agricoltura, il Dio che muore. Dio muore, il Dio del grano, ma muore per vari motivi, perché è ucciso, perché è rapito. Il mito si crea in vari modi, nel caso greco, Core è rapita. E il Dio, quando il Dio muore, muore la natura. In questi giorni, il Dio del grano è morto, con la nebbia, ma non è morto, è sottoterra. E fra tre mesi, quattro, cominceranno a nascere i primi germogli e le piante a rimettere le gemme. Il Dio risorge, o la Dea risorge. E così, in questo ciclo eterno, l'eterno ritorno della Dea, del grano, che compare, poi si allontana, poi compare, poi si allontana da sempre e finché ci sarà l'agricoltura, sarà così, ecco che l'uomo trova modo, grazie a questa divinità civilizzatrice, di vivere, di sopravvivere. E senza non potrebbe. Quindi, è vero che gli dei olimpici, così come ci compaiono da Omero, sono una comitiva, diciamo, di bon vivant, praticano la dolce vita, parola greca, eduizontes, quelli che vivono dolcemente, vivono sull'Olimpo, suonano e cantano e bevono, poi ogni tanto chieggiano qualche bella fanciulla o qualche bel fanciullo sulla terra e lo lo fanno loro, anche perché il Dio deve eternamente generare, come ho detto. Gli dei greci portano sulla terra anche il piacere. Non è una religione arcigna questa degli dei greci. non sono miti severi, cupi. Gli dei greci insegnano all'umanità che si può vivere, sopravvivere, ma si può anche vivere meglio, si può vivere con gioia e infatti accanto al dono della vita le civiltà mediterranee e poi qui in Piemonte è un centro importante, le divinità mediterranee portano il vino. Ahimè, cioè, no, ahimè no, per fortuna nostra noi viviamo nella civiltà del vino e non in quella della birra o della birra di canna e questo lo si deve a Dioniso. Dioniso ha inventato il vino, questo dio folle. Guardate che anche vedere nella follia qualcosa di divino, perché Dioniso è folle, è una grande un grande messaggio che ci viene da questo mondo, perché la follia può essere quella devastante, distruttiva, assassina di chi è un folle aggressivo verso il mondo, ma può esserci la follia di Dioniso, la follia del vino, la follia della danza. Questa strana per me polemica sui rave party mi pare veramente strana, perché io non prendo posizione ovviamente, ma posizione politica, cioè ho le mie idee, ma non prendo posizione su questi fenomeni, ma questi fenomeni di delirio, di follia collettiva innescati dalla musica, anche da droga in questo caso sembra, accompagnano l'umanità fin dall'inizio dei tempi. Le baccanti cos'erano? Le baccanti cos'erano? Andavano in luoghi isolati e sperimentavano i limiti della propria mente, cioè uscivano da sé, dal proprio io, danzando, ubriacandosi, non con droghe, questo non abbiamo, questo no, non è una cultura della droga, la cultura greca, e questi fenomeni di danze estatiche collettive, guardate, che sono diffusi in tutte le società primitive, fra virgolette, arcaiche, in tutto il mondo, a volte con il silenzio, i dervici, a volte con come dire, l'esaltazione sonora, il candomblé, nel Medioevo, dopo la grande pestilenza, in Europa si diffuse una un'epidemia di danza, che erano chiamati danzatori di Sant'Antonio, e la loro centro fu Liegi, quindi zona di produzione, anche di christophie, folle di persone, donne, ma anche maschi, uscivano dalla città danzando, ballando, e percorrevano tutta Europa, e a mano a mano si univano a loro, altre persone, tutta Europa fu presa da un delirio danzante per qualche anno, insomma, Dioniso offre il dono della follia, il dono della danza, ma soprattutto il dono del vino. Abbiamo dei miti di fondazione vari sulla origine del vino, sempre riferiti a Dioniso, questo dio che scende dall'Olimpo e, cosa straordinaria, si mescola, cambia forma e opera soprattutto sulle, almeno in Grecia, sulle menti femminili, sono le donne a essere soprattutto le seguaci di Dioniso. Ad Atene c'è un mito di introduzione del vino, Dioniso viene ospitato da un contadino di nome Icario, il quale non conosce il vino, lui gli insegna il modo di coltivare la vite, Icario impara, lì c'è la prima vendemmia e allora per diffondere questo predicatore di Dioniso, per diffondere la nuova scoperta che il dio gli ha donato, carica alcune botti su un carro e gira per far assaggiare il vino ai suoi concittadini. Dioniso fra l'altro deve essersi fermato un po' anche in Piemonte perché i vini piemontesi sono i migliori del mondo direi, quindi dovreste rendere lode a questo dio. Comunque arriva dove c'è un gruppo di pastori, i pastori non conoscono il vino ma soprattutto non conoscono l'agricoltura. Questo è un mito che parla del passaggio fra la cultura della nomade della pastorizia e la cultura stanziale dell'agricoltura. e nel mondo mediterraneo i prodotti sono tre il vino il grano e l'olivo poi parliamo anche dell'olivo quindi del grano abbiamo già parlato. Del vino appunto stiamo parlando Icario offre da bere questa sua bevanda ai pastori che non avendo mai gustato neanche mai il vino una bevanda nuova s'ubriacano e cadono e cadono a terra ubriachi dopo appunto una grande sbornia. Quando si risvegliano pensano di essere stati avvelenati e uccidono Icario lo uccidono e lo soppelliscono in un certo posto. Quindi è un profeta Icario un profeta martire perché viene in realtà una forma di sacrificio cioè si sacrifica una persona è un sacrificio umano è un sacrificio poi verrà sostituito con un capro l'animale sacrificale a Dioniso per eccellenza poi c'è la pietosa storia della figlia di Icario che si chiama Erigone che va a cercare il corpo del padre guidato da una cagnetta che annusando la porta fin dove il corpo è stato sepolto e allora lei per il dolore si impicca ma gli dei portano puniscono i colpevoli e portano tra le stelle la cagnetta a Canicola il Canis che c'è tra le stelle nell'ostellario antico dunque Dioniso offre agli uomini il vino se no sarebbero senza vino Demetra offre agli uomini l'agricoltura se no si nutrirebbero di ghiande gli dei non lavorano non sono loro a coltivare i campi ma hanno una cosa tipicamente loro che offrono agli uomini e si chiama questa è la risposta che danno i greci all'acquisito che facevo prima una cosa che si chiama Metis Metis è è una forma di intelligenza non è l'intelligenza pura è un'intelligenza applicata che permette all'umanità alla persona che la possiede di vedere le situazioni e di affrontare le situazioni e di risolverle quindi gli uomini e gli dei danno all'umanità questa conoscenza e questa conoscenza si manifesta in cose da fare perché il vino non nasce da solo ci devi lavorare il grano lo stesso ora qui non parlo siccome si parla di miti non parlo affatto dei processi di produzione che all'inizio sono affidati agricoltori poi a schiavi questo fa parte della storia sociale non è il mio argomento parlarne qui ma il terzo dei grandi doni è l'olivo chi dona agli uomini l'olivo? La dea per eccellenza della metis cioè Atena noi abbiamo siccome diciamo la gran parte della cultura letteraria filosofica e poetica greca ci viene da Atene noi qui abbiamo soprattutto miti ateniesi perché il primo olivo spuntò sull'acropoli di Atene e la storia è questa vi fu una contesa fra gli dei in cui Poseidon il dio del mare e Atena volevano entrambi diventare i protettori di Atene gli ateniesi si riunirono fra l'altro secondo una certa un certo mito anche le donne uomini e donne insieme giudicarono e Poseidon piantò il suo tridente in terra e ne uscì il cavallo il primo cavallo scalpitante un grande dono per l'umanità Atena stese la mano verso terra e ne uscì l'olivo il primo olivo voi a chi avreste dato il premio insomma è difficile sta di fatto che per un solo voto vinse Atena un solo voto e Poseidone se ne andò arrabbiato e poi punì gli ateniesi con un'inondazione insomma vabbè lo placarono ma intanto l'umanità aveva avuto l'olivo l'olivo di Atena da cui si trae l'olio e con ciò come dicevo gli dei greci non sono lavoratori non sono loro che fanno queste cose ma ma sono quelli che danno all'uomo la possibilità di iniziare il lavoro su questi su questi temi e quindi rendono la vita dell'uomo più civile cosa sarebbe l'uomo senza appunto il grano la vite l'umanità cosa sarebbe ecco quindi che gli dei dell'Olimpo non sono dei fannulloni completamente dei fannulloni sono dei fannulloni perché il lavoro è una cosa da uomini gli dei in genere non lavorano poi vediamo un caso un po' particolare del mito ma sono quelli che con la loro metis costringono l'uomo a lavorare ma anche lo costringono a percorrere le tappe della civiltà questa è l'eredità che lasciano non un sistema di norme di leggi da quanto io so altre culture si disinteressano del rapporto fra divinità e opere umane perché la divinità è come dire separata dal dal mondo delle opere dicevo che il lavoro è una una un destino completamente umano ma è il destino che l'umanità deve percorrere se vuole migliorare se stessa se vuole davvero migliorare se stessa quindi tutto ciò questi miti vanno visti così in termini molto generali nell'ottica di una parola che è un po' anacronista cioè non viene usata dai dai greci ma la possiamo usare noi che si chiama progresso progresso e forse nessun canto più bello sul progresso dell'uomo che è un'idea che nasce ad Atene nel quinto secolo soprattutto è quella che ci viene da un corale di Sofocle nel primo stasimo dell'antigone quando dice quante cose meravigliose ci sono ma nessuna è più meravigliosa dell'uomo il quale ha saputo costruire navi che vanno oltre le bufere grigie del mare e ha saputo domare i cavalli e ha saputo abbattere le fiere e ha saputo catturare gli uccelli l'uomo pantoporos dai mille pensieri che tutto pensa che con coraggio si avvia verso il futuro e ha imparato a guarire le malattie una sola cosa non ha imparato come fermare la morte sono delle parole molto famose che pongono l'umanità al centro di un processo attenzione qui non dice che gli dei hanno insegnato dice che l'uomo ha fatto questo ma l'uomo è stato avviato su questa strada queste cose si potevano dire per la prima volta in un'epoca in cui personalmente mi sarebbe piaciuto vivere anche se la mia vita probabilmente sarebbe stata più breve cioè l'epoca di Pericle Sofocle Fidia Soc l'inizio della filosofia Socrate la tragedia greca e furono dette furono dette probabilmente anzi certamente in un momento particolare forse non sarebbero state scritte dieci anni dopo prima della grande pestilenza di Atene che nel 430 avanti Cristo devastò fu un'epidemia tremenda che diede un colpo spaventoso ad Atene e forse alla fiducia che l'essere umano aveva per sé e qui il pensiero corre per forza a quanto è capitato a noi negli ultimi anni l'uomo pantoporos che con la scienza si avvia a dominare il mondo magari anche a distruggerlo ma comunque il progresso dell'umanità inarrestabile poi qualcosa di infinitesimale ti blocca un'epidemia ci ricorda che noi non siamo immortali ma naturalmente nessuno di noi pensa di essere immortale ma è un dramma personale da affrontare la propria morte questo è stato un dramma collettivo di tutta l'umanità che ha sbattuto il naso contro poi c'è stata anche una guerra ma comunque contro il fatto che non è vero che noi siamo automaticamente la specie dominante nella storia può non essere vero comunque dobbiamo tener conto di questo e perciò io leggevo scusate l'età mi fa perdere dei nomi però un libro poi mi verrà il nome di un'autore che ha avuto un successo mondiale che si chiamava molti di voi magari l'avranno letto Homo Deus l'uomo Dio che preconizzava addirittura un'umanità immortale un'umanità e due anni dopo eccolo l'uomo Deus tutto ancora oggi portiamo le mascherine l'umanità non è diventata migliore attraverso l'epidemia no non è diventata migliore è diventata più sospettosa è diventata più isolata forse anzi sono sicuro che come gli ateniesi poi hanno superato la pestilenza e noi supereremo questo col tempo però le parole di Sofocle furono dette prima e restano l'uomo Pantoporos trova tutti i mezzi trova tutte le vie non davanti alla morte ma davanti a tutte le altre cose ha creato la civiltà quindi gli dei creatori di civiltà poi lasciano l'uomo alla loro civiltà ha inventato l'agricoltura bene adesso è tua noi ci nutriamo di ambrosie e di nettare se questi dei fossero stati così indifferenti all'uomo perché perché donare all'umanità il grano l'olio il vino loro si nutrono appunto di altri cibi ho detto che per gli dei è una lavoro estraneo al mondo degli dei abbiamo tuttavia uno strano mito di un dio che lavora per punizione ed è il mito di Apollo il quale avendo ucciso i ciclopi fabbri del fulmine Apollo viene condannato da Zeus a servire un uomo per un anno va alla corte di Admeto re di Tessalia che lo che lo mette a pascolare le pecore ma lo tratta così bene che poi Apollo tiene dalle moire un dono cioè quello di rimandare la morte di Admeto quando fosse arrivato il suo momento a patto che un'altra persona vivente si uccidesse per lui insomma ma chi nessuno vuol farlo nel padre decrepito nella madre nel servo né un amico ma perché rinunciare alla vita per un altro l'unica che lo fa è la moglie Alcesti ma Euripide è ambiguo in questo Alcesti non lo fa per amore lo fa per i figli perché dice io vedova non sarei in grado di proteggere i miei figli ma tu maschio si li difenderesti ecco perché lei muore poi questa bella favola finisce bene perché la favola dell'uomo che ingannò sottomise la morte e finisce bene perché arriva Eracle ospitato da Admeto si rende in quale lo ospita magari malgrado il suo dolore poi Eracle viene a sapere la cosa si apposta vicino al sepolcro di Alcesti quando arriva morte fra l'altro Sanatos in greco è maschile non è femminile quando arriva Sanatos Eracle lo assale lo soffoca lo stritola finché Alcesti viene lasciata libera dunque poi questo strano mito è in realtà una favola ma io ora nei minuti che restano vorrei entrare proprio a contatto abbiamo detto che gli dei sono estranei alla al lavoro in quanto non lavorano ce n'è uno però che lavora ed è Efesto il dio Fabro il quale possiamo dire è un antiolimpico cioè come gli dei olimpici sono belli sereni vivono facilmente così Efesto ha una disavventura da piccolo i miti variano su questo punto basta di fatto che Efesto viene cacciato dal cielo cacciato dall'Olimpo cade sulla terra e si spezza le gambe da allora sarà zoppo sarà zoppo e anche esiliato ma arrivato sulla terra Efesto che guarda con nostalgia al cielo da cui è stato cacciato impara questo invece che un dio che insegna un dio che impara impara a usare questa queste mani impara da un uomo si dice un certo cedaglione di nasso e da altri mostriciattoli che giravano sulla terra si chiamavano telchini mostri della metallur mostri erano dei gnomi come quelli della mitologia nordica kobolde e telchini che erano dei fabbre e dei maghi un po' maligni un po' dispettosi ed Efesto che è un dio impara a usare le mani i piedi sono storpi ma le mani sono meravigliose e impara a costruire gli oggetti più belli che siano mai stati forgiati sulla terra gioielli ma anche le case le case dell'Olimpo le ha costruite tutte Efesto e Omero ce lo mostra ce lo mostra nell'Iliade tutto sudato col petto peloso sudato che smartella un incudine che sta facendo oggetti e anche costruttore di automi perché i primi robot della mitologia così di cui si senta parlare sono costruiti da Efesto due ancelle d'oro che lo sostengono perché lui zoppica e lo portano dove vuole lo servono e poi costruisce altri esseri meccanici come i leoni dei leoni che fanno la guardia al palazzo di Alcino o leoni semoventi leoni vivi poi costruisce altri giganti il gigante talo lo costruisce lui che sorvegliava Creta insomma è un costruttore di automi ed è anche un costruttore di opere belle questo è un tema mitologico che troviamo in altre culture per esempio Thor il fabbro della mitologia germanica è Monco perché c'è un dio che ha qualcosa di meno perché questo qualcosa di meno compensa un qualcosa di più è zoppo nei piedi ma meraviglioso nelle mani che è un tratto tipico del mago Festo è un dio in cui si si nota molto l'imprinting della magia è un dio che costruisce oggetti magici e infatti grazie a questa sua capacità torna sull'Olimpo un mito molto piacevole perché non lo volevano far tornare sull'Olimpo questo mostro un po' sudaticio impresentabile diciamo ma lui ottenne di risalire sull'Olimpo con un trucco fece portare un trono meraviglioso tempestato di diamanti che aveva costruito lui come dono a sua madre Era che secondo alcuni miti era stata lei a gettare il figlio sulla terra perché Feste era figlio di Era e di Zeus ma questi due dei che rappresentavano la bellezza finirono per generare uno sgorbio quando Era vide questo bambino con il nasetto schiacciato che la guardava rapito ma era bruttissimo lo prese per i piedini e lo gettò sulla terra madre snaturata dove sull'isola di Lemno dove c'erano dei culti appunto di Efesto allora Efesto costruisce un trono d'oro lo regala la sua mamma la quale si siede sul trono sfolgorante di bellezza le pare di essere al centro dell'universo ma poi quando cerca di alzarsi non può perché il trono è magico non non riesce ad alzarsi dal trono provano a tirarla provano a rovesciare il trono no no resta attaccata lì l'unica soluzione è chiedere a Efesto di liberarla ma Efesto dice sì io la libero ma voglio essere riaccolto tra voi e anzi sposare la più bella di voi Afrodite la bella e la bestia e sono gli dei costretti a riaccoglierlo Afrodite borbotto un po' ma insomma ha tante possibilità poi di esercitare la sua bellezza altrove e così dice un mito che troviamo anche in Omero Efesto sale al cielo e accompagnato da Dioniso quindi i due outsider della famiglia divina ingroppa non non un destriero ma ha un mulo sale sull'Olimpo Dioniso gli ha dato da bere arrivano ubriachi in mezzo agli dei schiamazzanti in mezzo agli dei non so se siano stati penalizzati Zeus non ha penalizzato con leggi questa specie di rave party creato dai due dai due dei più appunto estranei alla bellezza olimpica e sposa Afrodite poi Afrodite non ci pensa due volte a tradirlo e lo tradisce col dio più bello più palestrato che è Aris e qui Omero racconta una storia divertente che forse molti di voi sanno cioè che qualcuno fa la spiata allora Efesto costruisce delle catene invisibili attorno al suo letto poi dice ah sì devo andarmene sulla terra a sbrigare delle faccende appena lui esce dalla sua regia il letto ancora caldo Afrodite chiama Ares ma le catene invisibili come ragnatele calano su di loro e vengono imprigionati e poi smascherati davanti a tutti gli dèi guardate gli adulteri e alla fine li libera e va bene è un menage un po' complicato fra Efesto e Afrodite però con Afrodite voglio dire c'è un prezzo da pagare Efesto quindi antiolimpico è il dio della metallurgia è il dio non che come dicevo prima induce l'umanità a evolversi col lavoro ma è un dio che lavora lui stesso coi suoi aiutanti si diverte a lavorare perché si diverte a lavorare perché crea opere belle perché senza di lui non ci sarebbe la bellezza delle opere senza Atena probabilmente non avremmo che ispira e Apollo che ispirano i poeti e gli artisti non avremmo questa bellissima sala ma senza Efesto noi non avremmo come dire la bellezza dei gioielli la bellezza del metallo il bronzo anche questo fa parte della sua figura però quando Fidia lo rappresenta nel fregio del partenone rappresenta tutti i dodici dei non lo rappresenta brutto e zoppo sembra uno degli altri gli dà la bellezza del dio mancano pochi minuti non potevo non citare lo cito soltanto molto brevemente un'altra figura divina di protettore del lavoro che è Prometeo Prometeo è colui che offre all'umanità il dono del fuoco e lo offre pagando con le sue sofferenze rubandolo perché gli dèi lo volevano tenere il fuoco fra di loro i miti sull'origine del fuoco sono diffusi in tutto il mondo presso tutte le mitologie in genere visto come un furto spesso come un furto spesso come un trucco perché il fuoco è ciò che consente di creare oggetti ma anche di cuocere il cibo non dimentichiamo che la funzione della cottura del cotto è anche connessa appunto con l'uso del fuoco infatti Prometeo è anche l'inventore del sacrificio ma il Prometeo il Prometeo delle origini di Ziodo è un imbroglione il Prometeo che ci viene dalla opera di Eschilo posta che sia di risparmio il dibattito filologico proprio di Eschilo il Prometeo il Prometeo legato che 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 ci è rimasto fra le tragedie di Eschilo lì lui si vanta di essere il civilizzatore dell'umanità e dice voi vivevate come delle formiche in case sotterranee chi vi ha insegnato a costruire le case io Prometeo chi vi ha dato il fuoco io Prometeo chi vi ha insegnato curare le malattie ancora io Prometeo e persino a interpretare i sogni io Prometeo anche gli interpreti di sogni erano dei lavoratori come anche che so gli indovini non erano dei lavoratori a modo loro personaggi del sacro in una in una sfera fra il sacro e il magico io Prometeo quindi le parole di Prometeo sono simili più o meno l'epoca e quella sono simili a quelle di Sofocle la fiducia nell'umanità nell'uomo che avanza e anche negli dèi Prometeo a una figura divina anche se non olimpica che li proteggono e li stradano per la via che porta l'umanità dal mondo delle caverne dal mondo della non civiltà al mondo della civiltà e quindi i miti greci che parlano di questa comunità di appunto esseri felici e lontani e che cantano e bevono sull'Olimpo parlano anche ci fanno anche vedere che dietro questo mondo di gioia c'è un mondo di progresso perché infatti scusate perché Dio gli dèi Dio un Dio deve creare l'uomo nell'afflizione affliggerlo con regole la religione è anche bellezza gioia per i greci era anche gioia feste non solo doveri e quindi non so se questa lezione o messaggio dei miti greci possa giungere fino a noi ma di sicuro io penso che la cultura dei greci la loro poesia e la loro religione abbia messaggi che possono valere anche per noi oggi grazie grazie